Liberata una parte di spazzatura a distanza di quasi 900 giorni, ieri mattina ai piedi della Real Casina di Caccia Borbonica, casa dei militari dell'esercito italiano di Persano a Serre, gli uomini della Eco Ambiente, la società pubblica dell'ente d'ambito di Salerno, hanno preso a tirar fuori il pattume stipato all'ombra di 163 su 213 cassoni, rispettando la richiesta dell'ingegnere regionale Liliana Monaco, responsabile unico del provvedimento e custode giudiziale, che a stavolta ha dato esecuzione ad un imperativo categorico di Vincenzo Montemurro, PM della direzione distrettuale antimafia di Potenza. C'erano gli uomini della procura, i carabinieri del nucleo operativo ecologico di Salerno, gli ordini del tenente colonnello Giuseppe Capoluongo, gli uomini della regione e gli addetti di Eco Ambiente, la società che per svuotare i cassoni, affidato il servizio di noleggio di buona parte dei mezzi, 248.790 euro, al tandem Sarim più Enki, le ditte che stanno già svuotando il sito di stoccaggio provvisorio, figlio dell'emergenza dei fiuti di movimentazione, messa a terra e deposito dei container, 38.300 euro, alla SIC e di spostamento e lavaggio di quei cassoni, 46.860 euro, alla Amoruso Giuseppe, la spa titolare del porto di Salerno che ospitò i 213 container dal 21 febbraio al 23 maggio scorso. Non c'erano rappresentanti della SRA e l'apertura dei cassoni in assenza di referenti dell'impresa è diventata un vero e proprio incidente procedurale, un atto irripetibile sul materiale sequestrato, questa la posizione dell'azienda che in quanto tale andava effettuato alla presenza dei legali e dei consulenti, degli indagati. I rifiuti nuovamente imballati per l'occasione, tirati fuori dai 163 box liberati, resteranno sulla piazzola.